Al lavoro è l'imperativo che sarà anche il late motive dell'Assemblea pubblica annuale di Confindustria Salerno in programma per martedì prossimo al Teatro Verdi. Il monito presente nel titolo continua anche con Ripensiamo le politiche industriali per ridare vita alla fabbrica. Questo per rimarcare come Confindustria Salerno intende porre al centro della discussione la necessità di riconferire centralità alle politiche industriali e all'importanza di rinnovate relazioni industriali. La ricetta, secondo gli industriali salernitani, per uscire dalle secche della crisi è imperniata su tre parole chiave, lavoro, fabbrica e politica industriale. Al lavoro col punto esclamativo significa oggettivamente, come diceva lei, che non è più tempo da ideologie, non è più tempo da fantasticare con la mente su che cosa fare, è tempo di lavorare. Abbiamo un governo che sta mettendo in campo delle iniziative, le ha annunciate, sta cercando di portarle avanti, speriamo le portino a termine entro la fine dell'anno. Noi abbiamo il compito di rinserrare le fila e andare avanti al lavoro, tutti insieme, imprenditori e lavoratori. Gli scioperi che ci sono in questi giorni, in queste settimane, secondo me non fanno bene, nella prerogativa e nel rispetto ovviamente di ciascuno, ma non fanno bene all'economia campana e salernitana. In questo momento abbiamo bisogno di lavorare per non perdere commesse, per cercare di guadagnare la fiducia di quel cliente che ci siamo guadagnati con grande forza e con grande fiducia. In questo dobbiamo essere convinti, martedì mattina ragioneremo con i nostri interlocutori alla presenza del Presidente Squinzi di lavoro, di politica industriale e di fabbrica. Tre parole chiavi, secondo me, che abbiamo dimenticato da tempo o abbiamo declinato in maniera, come dire, sempre non positiva negli ultimi cinque anni. Lavoro, fabbrica e politica industriale, invece, devono essere di nuovo il cuore pulsante del nostro tessuto produttivo. Ci sono le istituzioni, ci sarà la regione, la provincia, le istituzioni locali. Che cosa chiederete loro perché vi siano vicini in una sorta di processo di accompagnamento appunto al rilancio dell'economia provinciale? Sicuramente sarà l'occasione per rivolgerci a due parti sociali importanti. Da un lato alla parte sociale intesa come sindacato e tutti gli enti con le quali noi abbiamo rapporti, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, a cui sottoporremo un nostro documento che parlerà di relazioni industriali, secondo noi qual è il corretto cammino che dobbiamo intraprendere sulle relazioni industriali e sul rapporto con tutti questi enti che tutti i giorni interloquiscono e entrano nelle nostre aziende, sempre nel rispetto delle regole e della legge. Dall'altra ci rivolgiamo alle istituzioni, la regione in primis, perché pensiamo che questa regione nel prossimo settennio comunitario 2014-2020 deve mettere al centro dell'attenzione la politica industriale. Guardare sì alle opere infrastrutturali, ma se guardiamo ai grandi progetti dei sette anni precedenti abbiamo portato a casa poco e niente. Guardare invece molto di più alla fabbrica, alla politica industriale, all'aiuto agli imprenditori per farli andare avanti e cercare di essere sempre più competitivi. Questi saranno i nostri riferimenti e con forza esporremo le nostre tesi.